Qualche cosina cambieremo, non in modo eccessivo perché, come dico sempre, se no vado a stravolgere un po' l'equilibrio che ha la squadra, quindi non mi piace. Però in qualche giocatore le forze vanno gestite perché ora cominciano ad accavallarsene un bel po' di partite, quindi tentiamo di fare una cosa oculata che non stravolga l'equilibrio della squadra. Che tipo di avversario si aspetta? È un avversario che parte per tentare di vincere il campionato, quindi una partita difficile, una squadra fisica. È vero che hanno speso tanto domenica sera il derby con il Novara, è vero che abbiamo speso altrettanto noi domenica, quindi dal punto di vista del recupero, anche se hanno avuto un giorno in più, non credo che ci siano grandi differenze. È da vedere se la struttura fisica dei giocatori loro li aiuterà a recuperare prima dei nostri. Abbiamo visto l'infortunio di Belloni, Cutolo, è possibile che rientri da subito? No, oggi Nello è in fase di recupero, sta bene, però non può avere condizione per giocare un pezzo lungo di partita, quantomeno domani. Domenica si può pensare di fare un discorso differente, va fatta per gradi anche perché oggi abbiamo già perso Belloni, rischiare di perdere un altro giocatore di questa importanza qua poi diventa difficile. Domani la Pro Vercelli, domenica il Novara, non so se può considerare questo il partito, lei ha detto guardiamo una partita alla volta, ad ogni modo se questa settimana può essere considerata come anche una prova di maturità sotto l'aspetto anche cariatteriale. No, non credo che sia tanto il valore dell'avversario che ci dica che stato siamo adesso o che potremmo fare, nel senso che è chiaro che se succede che le vinciamo tutte e due lo vede un cieco che acquisiremo una posizione di classifica importante, ma può pure succedere il contrario e non vedo un motivo per cui dobbiamo perdere l'entusiasmo perché sono partite di un livello alto che pure tra due squadre di pari valori in questo momento qua può esserci una che predomina. Quindi non vedo un possibile contraccolpo in caso in cui le cose non dovessero andare bene o un ridimensionamento nostro in caso in cui le cose non dovessero andare bene. Come non vedo da fare voli caso contrario. È un campionato strano dove Novara va a perdere con la Pro Patria, dove Siena perde con il Gozzano, eppure penso che se l'avessero chiesto prima nessuno avrebbe detto che fosse successo così. Io credo che in questo torneo qua possa avere la meglio, non la squadra che ha più qualità o più forte in generale, ma la squadra che riesce a stare a un livello più alto per più partite possibili. Hai già in mente la formazione in caso quanti cambi ci potrebbero essere? Sì, la formazione ce l'ho già in mente. Due o tre cambi rispetto a quella di domenica probabilmente li facciamo. Poi da vedere a partita in corso se qualcosa la posso riaggiustare anche con qualche sostituzione, perché se ne faccio due o tre significa che otto di quelli che sono partiti domenica ripartono pure domani, e non so di quegli otto se tutti possono finire la partita. Quindi il fatto di avere comunque cinque cambi a disposizione questa volta qua mi può aiutare. Non è detto che io li faccia perché poi vediamo come prosegue la partita, e soprattutto non so oggi quantificare come recuperiamo dal campo di domenica. Oltretutto danno pioggia pure stanotte, quindi ci sta che pure domani il campo sia pesante. Vediamo che succede.